Stiamo recuperando attrattività ma c'è ancora la necessità di far tornare i turisti stranieri. Non mancano i segnali positivi ma adesso bisogna mettere le basi per una crescita solida. Il sistema Erpinia è sicuramente un modello per mettere in rete le risorse, soprattutto nelle aree interne. Decolla dopo quasi un anno di lavoro il progetto voluto dal presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, che mette in rete il patrimonio culturale e paesaggistico delle aree interne. Ospite d'onore, il ministro del turismo Garavaia. Le prospettive sono molto interessanti e importanti. Abbiamo visto la crescita che ha avuto in questi due anni, l'anno scorso e anche quest'anno, il turismo cosiddetto esperienziale all'aria aperta. Ecco qui le potenziali sono veramente pazzesche. Pensiamo solo al treno storico. Si è chiuso il secondo anno, la seconda estate in pandemia, qual è il bilancio? Allora, è molto positivo. Non abbiamo ancora i dati definitivi, ci arrivano lunedì e quindi lì avremo un quadro certificato, però ci sono tante regioni che hanno addirittura superato i dati del 2019. E sul Green Pass esteso, nessun freno, ha detto il ministro della Lega. Quindi il senso è di non chiudere più. Esattamente questo. Noi non vogliamo chiudere più nulla. Da Sistema Irpinia a Sistema Campagna, l'assessore al turismo della Giunta De Luca, Felice Casucci, rilancia il progetto su base regionale. Le altre province hanno manifestato grande interesse a questo modello, in particolar modo le province che hanno forti caratterizzazioni sulle aree interne e quindi proveremo a capire come sul piano turismo 2022 Sistema Irpinia possa essere un punto di riferimento. Per il presidente Biancardi un sogno che si avvera è un'occasione di sviluppo anche occupazionale per la sua terra. La strada è questa qui, non ce n'è un'altra. Quindi tra l'IAB e la piattaforma e il centro redazionale ci vogliono più di 1200 persone che lavorano.